Si chiama Ye Wen, è una donna di 50 anni cinese ed è diventata una celebrità su internet grazie alle sue magnifiche forme. Il suo figlio ha fatto sparancare gli occhi di migliaia di persone di tutto il pianeta, uomini e donne, vogliono sapere qual è il suo segreto, quindi il suo rischio di lunga giovinezza. Effettivamente la ragazza, ma è la donna, mostra un fisico oltre caci, solo nonostante i 50 anni già. Ma sentirei, sembra proprio che il fisico così sia il prodotto di una intensa attività fisica e sportiva, o le ore passate in palestra, alimentazione corretta, lunghe nuotate. Ad avere tempo ovviamente, questa è la domanda che molti ci fanno. Sembra proprio che Ye Wen, di tempo per la cura del corpo, la rispende molto in abbondanza, tanto che dimostra di avere 25 anni o meno. E anche una mia bimba, le sue immagini stanno facendo il giro del pianeta, da 50 anni ha spiegato ai miei cinesi di aver iniziato un'attività sportiva di tipo intenso a 30 anni per mantenersi in forma. Da quel giorno tutto ha cambiato, non è riuscito a più fare in meno di aderarsi. Si allena tutti i giorni in piscina, dal suo paese in palestra. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Comprimenti a questa donna, sisperata.